Non basta solo la sosta a pagamento, più controlli che mancano. Si è deciso per la sosta a pagamento 1,50 euro all'ora. Secondo lei questa è una cosa positiva o negativa per il commercio qui in centro città? Inerente alle strisce è una cosa positiva al massimo, in quanto c'è un ricambio di parcheggio. Siamo penalizzati, dico via Roma che è un piccolo tratto di strada dove c'è il clou dei negozi e tutto, e anche Corso Camma, che non c'è da parcheggiare perché c'è lo stallo proprio del parcheggio. Sulla cifra c'è qualcosa perché è un pochino alta, 1,50 euro all'ora, perché non siamo a Napoli centro alla che si paga la stessa cifra. Quindi per quello sono pienamente d'accordo, benvenga, quanto prima. È una cosa positiva perché almeno così c'è la sosta di un tot di ore e poi c'è il riciclo, insomma, che almeno un paio d'ore sta una macchina e poi dopo c'è un'altra. Invece senza grattino macchine parcheggiano giornate intere e non vanno via. Penso che sia positivo perché comunque si dà lo spazio a altre persone di parcheggiare e di usufruire dei negozi. Quindi c'è un riciclo di persone e di auto. Penso che sia positivo. Che paghiamo 1,50 euro, che paghiamo 1,50 euro, che è un servizio, che funziona. Se ha le cose funzioni, il cliente paga ed è contento. Ma questo può incentivare il commercio? Sì, aiuta un poco. Anche un po' di isola pedonale farebbe un po' bene. Un po' di evitare un po' le macchine. Parliamo di un po' di urbanistica. Non basta solo la sosta a pagamento. Più controlli che mancano.